Questo è un breve video dedicato a un piccolo spunto di blues, chiamiamolo così, che faccio con Mi e La, Mi maggiore e La maggiore e un Sol basso, suonato sul Mi basso. In pratica una cosettina, uno spunto di questo genere. D'accordo? Ecco, per suonare questo piccolo, piccolissimo spunto, basta suonare un Mi maggiore e un La maggiore e questo Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi. Eh? Niente di più, non è una cosa difficile. Facciamo, suoniamo le corde più grave, le ultime corde, il Re, il... suoniamo il Re, il La e il Mi basso, schiacciamo l'indice in modo da prendere con l'ultima falange del dito le corde di Re e la corda di La al tasto 2, suoniamo però anche il Mi basso con la penna, eh? E poi stiamo attenti a suonare le altre corde. Praticamente suoniamo La, Re, Sol, quando pigiamo l'indice, sempre il secondo tasto, per suonare in pratica quello che sarebbe un La, un La maggiore. D'accordo? Ecco, facciamo sempre questa ritmica, chiamiamola una breve e una lunga. Poi, eh, eh, quindi facciamo Ta, 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 quindi abbiamo il primo accento breve, il secondo più lungo, e stoppato però. E qui facciamo un Sol, che sarebbe le tre corde Re, Sol, Si, libere, poi suoniamo il La, e poi di nuovo il Sol, e torniamo a suonare il Mi, con un basso lungo, e poi di nuovo riprendiamo la ritmica. Ta, 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 ta. Se si fa attenzione io continuo anche quando faccio Ta, Sol La, Sol Mi, faccio continuamente la ritmica una breve e una lunga. Faccio Ta, 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 ta. qui faccio praticamente mi, sol, mi, sol, mi tutti uguali queste note sono tutte uguali e riprendo il mio mi ta, 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 ta pa, 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 d'accordo? questo è un semplice ripeto, spunto di blues si può fare un pochino alternare il mi sol, la, sol, mi mi, sol, mi, sol, mi sol, fa, sol, mi d'accordo? quindi faccio, facendolo lentamente un'ultima volta il mi sol, la, sol, mi pa, 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 pa poi faccio mi terzo tasto, mi terzo tasto, mi pa, 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 di nuovo mi sol, la, sol, mi mi, mi sol, mi sol, mi, sol, mi d'accordo? ecco, questo è un piccolo veramente piccolo spunto di blues che però può essere divertente fare per esempio con amici mh? 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 Grazie a tutti.